Tra sopralluoghi e progetti annunciati per mettere in sicurezza il ponte di Milimarina, ancora oggi sul posto nessun cantiere. La storica struttura lungo la via nazionale, che collega i villaggi della zona sud di Messina, attende i famigerati interventi previsti dall'assessore ai lavori pubblici Sergio De Cola. Quasi due mesi fa, a settembre, la strada era stata chiusa al transito perché dal ponte che sovrasta il torrente erano precipitati i pezzi di intonaco. L'intervento dei vigili del fuoco aveva acceso i riflettori sull'impianto, sul quale non sono mai state effettuate opere di manutenzione. L'impalcatura in ferro è rimasta scoperta, il cemento si è deteriorato e l'alveo torrentizio sottostante, invaso da detriti e immondizia, si è trasformato in una discarica che sfiora il ponte. Ed è evidente che in caso di abbondanti piogge il flusso non riuscirebbe a scorrere adeguatamente verso il mare. Gli abitanti dei due poli confinanti temono il peggio, considerate anche le precedenti alluvioni che si sono abbattute nel villaggio, ritenuto ad alto rischio idrogeologico. Da allora più volte abbiamo contattato l'amministrazione comunale per far chiarezza sui reali programmi in corso. L'assessore alla protezione civile, Filippo Cucinotta, ha annunciato nelle scorse settimane che con l'avvio del programma 2015 il torrente sarà ripulito immediatamente. Il torrente di Mili è un torrente che come molti altri torrenti cittadini destra preoccupazione. Mili è in programmazione entro l'anno. Per il ponte invece si era parlato dell'investimento dei fondi Tasi. Si parla di un intervento, almeno da quanto dice l'assessore De Cola, di circa 100.000 euro, euro in più, euro in meno. E quindi queste risorse, tra l'altro grazie alle entrate della Tasi e quindi nel giro di qualche settimana si spera che questi disagi e soprattutto comunque la messa in sicurezza della struttura possa avvenire in maniera concreta. Intanto sono trascorsi quasi due mesi e ad oggi nulla di fatto. Attendiamo che l'assessorato competente, visto anche l'attuale stato di allerta, intervenga a concludere, serialmente avviate, le procedure burocratiche per consentire l'inizio dei lavori rispondendo alle richieste dei cittadini residenti.